Il Consiglio Comunale di Prato la Peligna di questa mattina con il voto favorevole della maggioranza e l'assenzione dei gruppi di opposizione approva l'efficacia della variante generale al PRG disposta con la deliberazione di Consiglio dell'aprile scorso sul trasferimento degli alunni della scuola di infanzia di via Indipendenza nella struttura privata di via Codacchio. Il sindaco Antonella Di Nino, aprendo la discussione sul provvedimento, ha annunciato l'arrivo del parere favorevole della provincia che ha riconosciuto il chiaro interesse pubblico. Un passaggio necessario per mettere in moto le procedure amministrative per il trasferimento degli alunni nella nuova struttura che risponde alla necessità di spazi più accoglienti e confortevoli. Su proposta dell'assessore alla montagna Fabiana Donadei è stato approvato inoltre il regolamento per la disciplina dell'uso dei pascoli per l'assegnazione delle aree di proprietà comunale. Con il voto contrario del gruppo Futuro Comune e l'assenzione dei consiglieri di Pratola insieme è passato infine a maggioranza il punto sull'assestamento generale di bilancio e la verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2018-2020.